Allora, questo qui è il look della Yaya per Capodanno ed è un look alla Valeria Marini. Vero? Sì, look alla Valeria Marini 1999. Bellissimo. Dieci, nove, otto, sette, sei, cinque, quattro, tre, due, uno, è finito! Allora, siccome in tanti non hanno capito il video, non capisco se sono io che sono un po' pirla. Si capisce il senso del video, no? Forse no.